ciao a tutti bentornati sul canale io sono samantha e oggi andremo a spacchettare insieme una nuova collaborazione con mickey sto parlando delle cuffiette bluetooth targate realme ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale quello che andremo ad unboxare e a testare oggi è il modello t110 delle cuffiette bluetooth che ci manda la realme nella confezione troviamo subito il manuale delle avvertenze e della garanzia e il manuale di istruzioni che troviamo anche in lingua italiana si possono collegare ed utilizzare sia con un telefono android che non e il loro utilizzo è davvero semplicissimo e funzionale permettono di ascoltare musica per circa sette ore totali e il tempo di ricarica del dispositivo è di circa due ore mentre la distanza di comunicazione bluetooth arriva ad un massimo di 10 metri il case che contiene le cuffie come potete vedere e piccolino dalle forme arrotondate ed elegante ideale da portare sempre con sé anche nelle tasche delle giacche o dei pantaloni grazie alla modalità di associazione automatica aprendo il coperchio di ricarica gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di associazione mentre con la modalità di associazione manuale basterà premere per cinque secondi contemporaneamente l'area touch delle due cuffie inoltre grazie proprio all'area touch possiamo gestire la nostra riproduzione premendo ad esempio per tre secondi sul lato sinistro abbasseremo il volume mentre sul lato destro alzeremo mentre sul lato singolo col doppio tocco riproduciamo o mettiamo in pausa il nostro brano mentre col triplo tocco passiamo al brano successivo la modalità conversazione invece col doppio tocco possiamo rispondere o terminare la chiamata mentre se teniamo premuto per due secondi rifiutare la chiamata troviamo anche vari inserti auricolari della misura più adeguata per noi le volte le troviamo pronte sulla misura m ma c'è anche la s e la l sono è nitido e potente e l'inserimento delle cuffiette nelle orecchie risulta stabile ad ogni movimento inoltre grazie alla lucetta presente sul case esterno sapremo sempre a che livello è la nostra batteria luce verde brillante 100 per cento ricaricate luce verde lampeggiante superiore al 20 per cento e luce rossa lampeggiante inferiore al 20 per cento la ricarica si effettua inserendo un cavetto usbc nel case ricordo che comunque il cavetto non è incluso nella confezione io le utilizzo spesso durante le mie giornate di allenamento e come vi farò vedere adesso anche durante le mie corse le cuffiette restano belle aderenti compatte e comode direi un buon prodotto se vi è piaciuto il mio video ricordatevi di lasciarvi un like e di condividerlo e noi ci vediamo al prossimo unboxing